Unite segnava un nuovo inizio della storia mondiale, fondato sulla condivisione dei valori di libertà, pace, democrazia. Oggi ci troviamo ad affrontare una situazione altrettanto drammatica, seppur dovuta a mali differenti, inediti. Un nemico invisibile ha sconvolto le nostre esistenze e le nostre abitudini consolidate, ha provocato vittime, soffocato l'economia mondiale, costringendoci a interrompere le relazioni sociali, a limitare le nostre libertà. La pandemia da Covid-19 ha colpito indiscriminatamente tutte le regioni e i popoli del mondo, mettendo nuovamente a dura prova l'umanità. Questa tragedia ci ha cambiati, ma ci consegna anche l'opportunità di un nuovo inizio, che sta a noi cogliere. Dopo questi mesi di sofferenza, oggi ci guardiamo negli occhi in modo differente, facendo appello ad un nuovo mutualismo, ad un rinnovato spirito solidale. L'Italia è stato il primo Paese, in Europa e in Occidente, che si è trovato a fronteggiare questa emergenza su larga scala. Il nostro Paese è divenuto simbolo di uno sforzo collettivo, umano prima ancora che sanitario e politico, portato poi in dote all'intera comunità internazionale. Nelle settimane di profonda emergenza, l'Italia ha toccato con mano il sostegno e la vicinanza della comunità mondiale. Tante le manifestazioni di solidarietà, di assistenza e tanti, lo voglio sottolineare, gli attestati che hanno riconosciuto la forza, la resilienza e il coraggio dei miei concittadini, a cui anche in questa sede sento il dovere di dire grazie per il grande senso di responsabilità dimostrato.